Ragazzuoli come potete vedere sono stato anche io a quanto pare bannato per aver utilizzato lo skin swapper Per un altro giorno e 22 ore non potrò giocare a Fortnite Vi spiego in breve che cosa è successo, che cosa succederà, che cosa bisogna fare Per evitare in breve il ban su Fortnite tramite questa applicazione Che vi spiegherò anche che cos'è se qualcuno di voi magari non la conosce Quindi ragazzuoli mettetevi i comodi e adesso partiamo immediatamente Orca mila orca a tutti e benvenuti in un nuovissimo video velocissimo di Fortnite Raga guardate un pochino qui che cosa mi appare sullo schermo Questo account è stato bandito Esattamente come potete vedere qui alla mia sinistra e alla vostra destra Abbiamo la schermata di Fortnite con una skin che a quanto pare non è ancora uscita su Fortnite E come potete vedere in realtà qua mi da la skin quella di Fadesway, la Dark Bomber Ma in realtà come potete vedere mi da questa qui e mi fa vedere anche sta skin in game E la fa vedere anche agli altri ovviamente Ecco questa funzione si chiama skin swapper Praticamente è un'applicazione che permette di swappare, di cambiare una skin già esistente nel vostro armadietto E diciamo sostituire quindi trasformare quella skin che avevate in una skin che non avete Quindi per esempio in questo caso o che non è magari ancora stata rilasciata su Fortnite Quindi in questo caso ho la skin di Fadesway, ho la skin Dark Bomber Ma potevo tramite questa applicazione skin swapper che vi ricordo nello scorso video avevo fatto vedere come installare ed utilizzare Ma non utilizzate perché venite bannati Trasformarla, cambiarla in questa qui che ne è ancora uscita in game E farla vedere anche agli altri Magari ogni tanto non funzionava e quindi gli avversari non la vedevano Ma alcune volte magari si E quindi gli altri vedevano una skin che non esisteva in game E anche io ovviamente in game la vedevo Mi raccomando state molto attenti Questo è il succo di questo video Non utilizzate lo skin swapper Perché a quanto pare delle ultime ore Fortnite Quindi notizia ufficiale di Epic Games Sta iniziando a bannare tutti quelli che stanno utilizzando questo skin swapper Io purtroppo ho fatto il video tre giorni fa barra quattro Quindi neanche sapevo perché la notizia è trapelata ieri E hanno iniziato a bannare ieri Quindi raga mi dispiace per quelli che hanno fatto lo skin swapper E sono stati bannati ma tranquilli tanto è solo per due giorni Basta che dopo non lo rifate Oppure disinstallate tranquillamente il programma O fate il revert Insomma ci sono veramente tantissime opzioni Per togliere queste skin swappate Se le avete già swappate Detto ciò ragazzoni vi faccio vedere le soluzioni più semplici Per togliere queste skin se le avete già swappate O per chi invece neanche ha scaricato questa applicazione Che vi permette di cambiare le skill perché non poteva o non voleva Meno male ha fatto benissimo perché altrimenti veniva bannato per due giorni Anche se solo due giorni Però magari per uno che gioca solitamente ogni giorno Magari è un po' straziante Però comunque tu che stai guardando questo video E non hai mai scaricato questa applicazione che sostituisce le skill Che permette di sostituire le skill Chiamata appunto skinchanger barra skinswapper Hai fatto bene E infatti come potete vedere qui Se vado in giocatori sigolo Mi dice che appunto questo account è stato bandito Anche se cambio modalità Poi non so se creativa funziona Ma non credo proprio Esatto non posso praticamente più fare nulla per un giorno E un ore Anche se cambio skin ragazzuoli Guardate un pochino vedete Quindi per chiunque ha visto il mio vecchio video O i miei vecchi video su come scaricare le skinswapper Ora vi faccio vedere come togliere appunto queste skin Che sono state già swappate Un primo step è quello dal launcher di Epic Games Di verificare tramite la biblioteca La sezione biblioteca di Fortnite In questo caso c'è l'icona di Instagram davanti Vediamo se riesco a togliervela Ecco qua la sezione biblioteca Basta che andate su Fortnite Andate sui tre puntini E cliccate su verifica Automaticamente vi toglierà tutte le skin Se invece non volete magari aspettare che verifichi Fortnite anche se è la soluzione migliore E quella più sicura Chiudete il launcher O meglio fate come se non l'aveste mai aperto Aprite lo skin changer che avete utilizzato Per cambiare le skin Quindi per sostituire le skin già existenti Nel vostro armadietto In questo caso ho utilizzato lo sweet swapper Che è quello dello scorso video Ok qua si apre giustamente anche il sito qua L'applicazione sta partendo Ed eccolo qui ragazzuoli Come potete vedere siamo dentro al launcher di sweet swapper Purtroppo è stato patchato Quindi non possiamo più aver nessuna skin E guardate un pochino in questo caso Noi possiamo tranquillamente fare revert Per chiunque ha già swappato le skin E come potete vedere qui dice Body head removed Insomma ha tolto tutto E quindi già così abbiamo risolto Quindi dovete andare sulla skin che avete swappato E fare revert Oppure se nessuna delle due opzioni Quindi verificando fortrate Oppure revert Tramite appunto la skin swappata Non vi funzionano Dovete semplicemente chiudere il programma E andare sulle applicazioni Installazione applicazioni E disinstallare il programma Anche se è impossibile che non vi funzioni No quelle due opzioni che vi ho appena elencato Niente ragazzuoli Spero che questo brevissimo video vi sia piaciuto Se così è stato lasciato un bel pollicione in su Io in questo caso continuo Anzi lascio verificare fortrate Cos'è meno mi toglie la skin E siamo a posto Mi raccomando Non rifatelo Se avete già fatto questo procedimento Di swappare la skin Non lo fate Se non l'avete mai fatto Perché se non l'avete mai fatto Vi beccate il ban di due giorni Ma se l'avete già fatto Vi beccate il ban Permanente Quindi state attenti ragazzoni E mi dispiace per chiunque l'abbia fatto Ed è stato bannato Perché io purtroppo non ne sapevo nulla E vedo che il video è uscito 4-3-4 giorni fa E la notizia è trappelata Ieri E niente voi Io spero che questo brevissimo video Come oggi vi sia piaciuto Un bacione da Lucius Grazie a tutti per l'attenzione E per la pazienza Scusatemi Grazie a tutti